Decreto Ristori, da poco licenziato dal governo Draghi, lascia molto perplessi nella misura in cui cancelle e annulla le cartelle esattoriali fino al 2010. Perplime in effetti l'esclusione e dei contributi previdenziali che la Cassazione da anni ha chiarito prescriversi in 5 anni ed una volta prescritti diventano assolutamente inesigibili, come perplime anche l'esclusione di tutti quei crediti vantati dallo Stato che sono stati annullati di diritto in base alle istanze formulate dai contribuenti ex legge 228 del 2012. A pochi giorni dall'uscita del decreto sostegni giungono giudizi contrastanti da più parti. Particolare risalto stanno avendo le critiche pervenute dalle associazioni forensi proprio in merito alla cancellazione delle cartelle esattoriali. A loro avviso infatti sono provvedimenti fatti male e incompleti. Questo in effetti creerà questa esclusione, una disparità di trattamento che ovviamente va denunciata e va in qualche modo anche combattuta. Tra chi una volta che l'angelo di riscossione procederà alla riscossione di questi tributi, tra chi si potrà permettere di adire all'autorità giudiziaria per far valere questa nullità e chi invece non lo potrà fare. Quindi noi come Camere Civili da tempo siamo molto sensibili a questo tema che investe il rapporto tra fisco e contribuente e quindi cercheremo con le nostre forze, anche con la sponda dei politici di buona volontà, di fare in modo che questo decreto in questa parte e non solo venga in qualche modo modificato.